Giorno 564. Nel rapporto di oggi parliamo dei vari sviluppi avvenuti nella direzione di Tokmak. Una volta messa in sicurezza la strada per robotine, gli ucchiani si sono concentrati sull'incrementare l'offensiva in tutte le direzioni. La prima è stata Copani. L'obiettivo ucchiano in questa zona è quello di demolire quello che rimane della prima linea difensiva per avere più libertà di movimento dentro alla testa di ponte. Come possiamo vedere, mentre gli ucchiani hanno distrutto la sezione robotine-verbove diverso tempo fa, quella robotine Copani è rimasta virtualmente intatta limitando i movimenti delle unità d'assalto. Due giorni fa è stato confermato che gli ucchiani avevano catturato circa tre reti di trincee russe a ovest di robotine, attaccandole dal villaggio stesso. E ieri, secondo fonti russe, sono state aperte linee d'attacco addizionali da nord e hanno già ottenuto progressi. Fonti ucraine hanno pubblicato vari video dei combattimenti, mostrando come diversi Leopard 2 AS stessero minando le difese russe nella linea dei alberi prima dell'attacco della fanteria. Nel momento in cui gli ucchiani hanno visto l'esplosione del primo proietto d'artiglieria russo, si sono ritirati per non dare l'opportunità ai russi di correggere il tiro e danneggiare Leopard. Per i difensori era tuttavia troppo tardi e dopo alcuni assalti le forze russe sono state spinte via dalle loro posizioni. Poco dopo i combattenti ucchiani hanno rilasciato il video dell'evacuazione di un carro russo danneggiato, il che suggerisce che i campi che erano precedentemente una zona grigia sono ora in totale contro l'ucraino. E questo era solo l'inizio. Ieri gli ucchiani hanno condotto un attacco corazzato sul nuovo Prokopifka e i video di combattimenti aiutano a comprendere meglio cosa sia successo sul campo. Sembra che i carri siano entrati nell'area poco dopo la preparazione d'artiglieria che è riuscita a distruggere vari depositi di munizioni. E una volta che si sono avvicinati abbastanza alla linea di alberi, uno di questi ha provato a superare quante più linee possibili, passando per la linea di alberi dal lato ucraino. Una mostra prudente che permette la detonazione di mine anti-uomo e la creazione di una via sicura per la fanteria che può seguire la scia dei carri in relativa sicurezza. La parte più difficile è arrivarci e non solo gli ucraini dovranno ripulire una porzione importante di territorio ma una volta arrivati anche sminare l'intera linea di alberi. I carri erano alla ricerca di rifugio e fortificazioni intatte che potessero mettere le unità in pericolo e si assicuravano quindi che fossero completamente distrutte. Presto le linee di alberi sono state ripulite e gli ucraini sono potuti andare oltre. Una volta che si sono avvicinati alle nuove posizioni però i carri sono stati presi di mira dalle posizioni a TGM. Sfortunatamente per i russi hanno però mancato il bersaglio e scoperto la loro posizione. Un operatore di droni ha immediatamente identificato l'area e passato le coordinate all'artiglieria e ai carri che hanno dimollito la zona. Una volta arrivati a Novo Prokopivka hanno aperto il fuoco sui russi dentro il villaggio. Un carro immobile e un bersaglio perfetto quindi i russi hanno provato nuovamente a distruggerlo con un drone suicida. Ma i droni da ricognizione erano vigili e hanno avvisato per tempo l'equipaggio che ha fatto in modo che il drone mancasse il bersaglio. Una volta ottenuti tutti i loro obiettivi i carri sono tornati alla base. Dopo l'assalto la fanteria ha condotto un'operazione di pulizia e stabilito controllo totale sulle nuove posizioni. Un combattente ha mostrato l'equipaggiamento che avevano raccolto nelle trincee e un altro ha rilasciato il video della linea di contatto tra Robotine e Novo Prokopivka. Essendo necessario attraversare spazi aperti le unità da ricognizione sono estremamente impegnate. Un combattente di ritorno da una di queste missioni ha riportato che in alcune sezioni non solo ci sono densi campi minati ma sono anche sotto il controllo dei cecchini. In generale gli ucraini hanno cominciato a usare i loro carri molto più spesso il che ha permesso loro di aumentare il ritmo d'avanzata. Gli analisti dichiarano che la testa di ponte continua ad allargarsi e che i russi stiano perdendo una collina dopo l'altra. Questo permetterà agli ucraini di usare i carri sempre più spesso e come mostrato dai video gli attacchi corazzati facilitano il lavoro della fanteria meglio di quanto non faccia l'artiglieria stessa. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.